Buongiorno amici, buongiorno insomma, per modo di dire vi invito ad iscrivervi, a condividere il canale, a far iscrivere i tifosi della Fiorentina e a condividere il video con tutti i tifosi viola che conoscete per fare un dibattito sulla squadra insieme dopo Torino-Fiorentina. Allora, ieri ho detto che secondo me il Torino è una squadra sulla carta più forte di noi, ma lo dico da inizio campionato, io metto come squadre più forti della nostra Juve, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Milan e Torino. Ok, poi c'è il Cagliari che alla vigilia poteva essere dato come più scarso di noi, poi il campo ha dato un altro verdetto e forse sulla carta Cagliari e Fiorentina volendo si potrebbero equivalere, ok, visti i valori che sono emersi da tanti giocatori del Cagliari, va bene? Ieri il Torino aveva delle defezioni e molti hanno detto ma no, ma cosa dici, ma guarda che il Torino con le defezioni è tipo un Parma, non è più forte di noi, siamo noi più forti del Torino, cioè che la Fiorentina di ieri era sostanzialmente, ve la faccio breve, più forte del Torino secondo alcuni. Ora voglio fare un confronto che non va minimamente a scusare certe cose di cui parleremo dopo, che si sono viste ieri, è semplicemente un confronto sulla carta per farvi capire il livello della nostra squadra e per farvi capire che chi dice che il Torino visto ieri è più scarso della Fiorentina, per me sbaglia. Ho disposto le squadre che hanno giocato ieri su carta da formaggio tutte e due con un 3-5-2, ok, perché noi ieri non abbiamo giocato col 3-5-2, ma i giocatori che abbiamo usato erano passibili di essere usati in un 3-5-2 speculare a quello di Mazzarri, andiamo a vedere se la Fiorentina è più forte giocatore per giocatore del Torino visto ieri, ok, senza Belotti, noi eravamo senza Ribery e senza Pezzella, ma andiamo. Tra Sirigu e Dragoschi che è più forte secondo voi? Per me Sirigu. Più esperienza, più affidabilità, un portiere di una classe immensa, esperto per carità vecchio, ma l'età per i portieri è una roba diversa. Dragoschi ieri, oltretutto sul secondo gol, ha pure delle responsabilità, ma lasciamo stare. Sirigu lo metto più forte di Dragoschi. Tra Izzo e Caceres, volendo essere buoni, ammirando Caceres, come per certi versi piace a me, potremmo essere buoni, buoni, metterli alla pari. Io per prospettiva, per potenza e anche un nazionale italiano sarei più portato a dire che Izzo è più forte di Caceres. Mettiamo Izzo più forte di Caceres, ma volendo si può anche metterli alla pari, volendo essere buoni. Tra Ancoulou e Ceccherini, credo sia la Palissiano che è più forte in Coulou. Tra Bremer e Milenkovic, più forte Milenkovic. De Silvestri e Olaina per me sono più forti di Dalbert, ok. Baselli ad oggi è più forte di Benassi, mio avviso. Tra Rincon e Pulgar, viste le prestazioni medie non tanto, ma possiamo mettere Pulgar più forte di Rincon. Tra Ansaldi e Ghezal, mettiamo Ansaldi più forte di Ghezal. Tra Verdi e Castrovilli, mettiamo sicuramente Castrovilli. Tra Zaza e Vlaovic, ad oggi Zaza è più forte, più esperto, più pronto di Vlaovic. Tra Berenguer e Chiesa, possiamo mettere Chiesa più forte come qualità, diciamo, prospettiva. Va da sé che il confronto vede uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette giocatori del Torino che vincono e quattro della Fiorentina che vincono i duelli individuali singoli. Quindi il Torino di ieri, senza il fallo Belotti, con i suoi problemi, con la sua crisi, batte comunque la Fiorentina vista ieri nei duelli individuali di forza sette a quattro, ok. Con quella cosa di Izzo e Caceres, ma credo che dire che Izzo sia potenzialmente più forte o più forte di Caceres non sia una stupidaggine. Quindi non è vero che ieri il Torino era più scarso della Fiorentina sulla carta. Detto questo, viviamo una situazione tragica, ok, che va a 360 gradi. I colpevoli qui, in questa situazione, sono tutti. Anche Montella, per certi versi, perché se la squadra non ha carisma, non ha voglia di giocare, quasi, sembra, a volte è in confusione, sicuramente l'allenatore non ci sta facendo una gran figura. E vi dico anche un'altra cosa. C'è una piazza intera che si appella a Rocco Commisso, sempre con l'idea del salvatore Rocco, salvaci Rocco, che c'è quest'idea mitologica che c'è una dirigenza nuova, i Commisso e Barone, che sono totalmente incolpevoli, che sono dei santi, che sono persone che non sbagliano mai, e che si ritrovano loro malgrado ad avere allenatore e direttore sportivo, due persone capitate a caso, che presto verranno cacciate, perché Rocco non sbaglia mai, Barone non sbaglia mai, e quindi verremo salvati da questo duo. Ah, una cosa che non dico da tempo, per quelli che cantavano e hanno cantato in questi anni, non cantato, che io non sono minimamente d'accordo e non lo ero, ma il disaccordo civile, il non piacimento civile, ci può anche stare, per carità del Signore, è democrazia ed è giusto che sia così, ma per chi in questi anni ha insultato i della valle, per chi li ha ricoperti di cacca, per chi li ha dipinti come il male di Firenze, io sono contento che la situazione sia questa, ve lo dico, io sono contento perché se lo meritano, è il karma, io un po' al karma ci credo, secondo me è giusto, per quei tifosi sono contento, sono triste per i tanti come me, che sono persone civili, che sono persone aperte, che sono persone che dialogano, che valutano la realtà con la complessità che merita, per quei quattro che negli ultimi anni hanno solo saputo insultare e neanche riconoscere gli abbondanti meriti della vecchia presidenza, che vi dico, sarà una di quelle che avrà alla fine della storia, diciamo, alla fine del mondo, una delle medie e punti più alte della storia viola, parlo dei della valle, perché squadre come le hanno fatti della valle, non le abbiamo quasi mai viste nella nostra storia, e probabilmente per un bel pezzo non le vedremo, per loro sono contento, detto questo, tornando al discorso di prima, c'è una società stessa, che non esonera Montella, per bocca dello stesso Pradè, perché secondo me? In primis perché giustamente ci si rende conto che i destini di Montella sono legati a quelli di Pradè e del calcio a mercato fatto, perché ha anche rotto i maroni, sta cosa che deve sempre pagare solo l'allenatore, si ragiona a cicli, sta cosa mi piace, in secondo luogo perché penso che, nell'eventualità di un esonero, si voglia aspettare la pausa invernale, nel momento in cui tu non ti fidi più della tua guida tecnica, non so a cosa possa servire, anche perché le vacanze di Natale non mi sembrano siano momenti di duro lavoro intenso, in cui dici cambio allenatore, lo faccio qui perché a Santo Stefano mi devo allenare sotto la pioggia, fare gli allenamenti, ma vi dico anche un'altra cosa, la questione che si rimproverà a Montella, cioè quella della mancanza di carattere della squadra, è imputabile in parte a Montella, ma è anche imputabile in molte sue ragioni a tutto l'ambiente circostante, ora vi dirò una cosa forte, ma secondo me è vera, anche Conte che è a livello di carisma, di grinta, uno dei migliori allenatori in Europa, probabilmente il migliore in Italia, a livello proprio di motivazioni, di garra, di saper infondere spirito guerriero, tra virgolette, i suoi calciatori, io vi dico che anche Conte dovesse scendere una navecella di Rettiliani a dire signor Conte, lei da oggi, da oggi 9 dicembre, allenerà la Fiorentina e dovrà fare risultati con la squadra viola, ecco, io credo che avrebbe problemi anche Conte, perché c'è un ambiente talmente mal costruito attorno alla squadra che gli stimoli non solo non vengono, ma non puoi neanche darli, ma non puoi nemmeno darli, ma non puoi nemmeno darli, qui sapete cosa c'è da fare? C'è da cambiare tutto, c'è da cambiare tutto, perché non è più solo una questione di meriti tecnici, una questione di situazioni, di squadra scarsa, è proprio una questione di inerzie, di particelle elementari, a Firenze si respira la sconfitta, si respira la malaria calcistica, si respira, e qui è vero che non è solo da quest'anno, ma quest'anno non hai fatto niente per invertire la tendenza, e questo è il grave problema, c'è tanta gente che deve andare via, anche purtroppo gente che ha fatto bene, perché la malaria è talmente corrosiva che ormai ha corrotto tutto l'ambiente, qui c'è da iniziare, qui può ovviamente restare solo commisso, che è il presidente, ovviamente non è che lo puoi mandare via, non è neanche giusto, lui è la figura apicale, può restare, ma per il resto a partire dalla dirigenza, dalla gente che si occupa della squadra, anche voglio dire una cosa su Barone, a me per carità può anche starmi simpatico, è una figura che, ma anche là, purtroppo, e lo dico con affetto, il calcio in Italia non è come il calcio negli Stati Uniti, ok? E vedo sbandierate, selfie, cose del genere, purtroppo Joe, non è come negli Stati Uniti, il calcio in Italia è una cosa tremendamente seria, è una cosa, non dico di vita o di morte, ma è una cosa aziendale, ma nel senso della concentrazione massima che ci va messa nell'avere anche un'immagine di società con i contromaroni, ok? Perché se no, purtroppo, visto che i giocatori sono spesso delle personalità che non si ammazzano per il prossimo, che se possono tirano indietro la gamba, che non si vanno ad ammazzare, ma sono milionari, è gente privilegiata, cosa gliene frega a loro del tifoso che sta male, che si arrabbia, che non mangia perché la squadra va male, sono purtroppo, è gente così, molti calciatori sono così e quando ce ne si può approfittare, se ne approfittano molti di loro, se ne approfittano molti di loro, ok? Non è un caso se prendendo due società Inter e Juve, non è gente che va a farle sbandierate, Marotta non va a farle sbandierate sotto la curva, ve l'ho già detto, Agnelli non lo va a fare, non vedi Zang suonare l'inno dell'Inter con la fisarmonica e il pianoforte sembra una stupidaggine ma purtroppo perché anch'io sono contro ste cose, mi secca l'etichetta, ok? Ma perché? Perché ho una mia visione della vita che i giocatori non hanno ma non è una stupidaggine, purtroppo, purtroppo e lo sottolineo 30 volte, nel calcio conta anche questo, in Italia l'intensità e l'importanza data al calcio non è quella che viene data negli Stati Uniti dove quando gioca per esempio il Portland Timbers vedi il presidente che si mette a segare l'albero e a mostrare il disco dell'albero ai tifosi che è nostro, è bellissimo, è tipo un mix tra calcio e wrestling, WWE, Mankind, Kane, Undertaker, bellissimo, amo quella cultura lì, io farei wrestling anch'io, sentite cosa vi dico, ma purtroppo il calcio in Italia è una cosa diversa e qui a mio avviso molti giocatori non sono inseriti in una struttura gerarchica con anche gente col pelo sullo stomaco la cattiveria tale per creare un ambiente vincente, ok? A me pare che molte cose sto anno sia stato preso un po' così come viene, viene. Abbiamo gente che purtroppo già l'anno scorso ha dato riprova di aver staccato la spina a una certa ed è gente purtroppo che nei ruoli apicali era stata perché andava ceduta più gente quest'estate ve l'ho sempre detto e questa gente che è rimasta ha confermato quel tipo di mentalità che di cui poi ne ripaga tutta la squadra sugli errori di calciomercato estivo non voglio più tornare perché ormai mi sono anche stancato spero che il messaggio sia passato e spero possiate darmi atto che quest'estate ho cercato nonostante le fanfare di 300.000 persone di dirvi guardate che non stiamo comprando niente di che guardate che tanti giocatori che sono arrivati sono mediocri guardate che è una squadra scarsa guardate che è una squadra con dei buchi guardate che è una squadra leggera guardate che non sono sicuro che sia più forte di quella dello scorso anno e sono tutte cose che vi ho detto quest'estate che si sono rivelate vere purtroppo 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 l'unica cosa che un po' mi dispiace è Montella perché io un allenatore che mi ha portato quarto per tre anni semifinale di Europa League bel giuoco bel giuoco per tre anni pure con altri interpreti va detto ma anche quello è una cosa che va a vantaggio di Montella nel senso che dimostra che quando gli dai una buona squadra lui te la assembla te la mette insieme ti fa un bel centrocampo ti fa un bel tiki-taka ti fa un bel gioco quando c'è un ambiente di gente motivata di gente atta alla vittoria con una società che è attenta che ha speso e che quindi pretende rende di più anche l'allenatore ok? rende di più anche l'allenatore oggi Montella cos'è? è un fuscello in balia del vento un po' per il fatto che probabilmente anche lui è un po' insicuro per le esperienze negative che ha avuto per gli esoneri e me ne spiaccio ma un po' anche perché attorno non ha niente che dia sicurezza ha un direttore sportivo che inizia a essere criticato da sempre più persone dopo il calciomercato che ha fatto ha un commisso che è appena arrivato che non gli da neanche tutta sta fiducia e si inizia a sentire ha Barone che più che altro si occupa dello stadio e anche lui è nuovo e fa quel che riesce a livello societario Montella cos'è? un fuscello in balia del vento ora uno mi dice va esonerato sì ma mi dispiace perché purtroppo è la visione più esterna ok? è la punta di un iceberg che pochi analizzano al di sotto capito? Montella dico anch'io che purtroppo andando avanti così va esonerato ma non tanto per colpa sua ma perché la situazione è talmente incancrenita o meglio ha delle responsabilità anche lui per carità soprattutto dal punto di vista del metterci un po' di garra a lui non ha tantissime responsabilità secondo me Montella ne ha qualcuna ma la situazione è talmente incancrenita a livello generale è talmente stata impostata male che qui l'unica possibilità che hai per cercare di salvarti perché ormai l'obiettivo è quello è di prendere un allenatore mi viene in mente quello ideale ad oggi sarebbe Gattuso perché Spalletti non ti viene ad allenare sta Fiorentina qui non ha senso chiamarlo adesso per poi magari bruciarlo tanto non ci verrebbe assolutamente farebbe anche bene ma andrebbe in difficoltà anche Spalletti con sta squadra qua ve lo dico anch'io perché lui è un allenatore che ha bisogno dei suoi giocatori delle sue sicurezze pretende giustamente essendo un ottimo allenatore secondo me i suoi uomini le sue certezze l'unico è Gattuso chiamare uno da battaglia uno che sappia magari che non ha sto gran gioco ma chi se ne frega ma che ha un attimo di capacità mentale di metterci quel pelo che può magari far rendere la squadra un po' di più dal punto di vista delle motivazioni ma sarà da soffrire anche lì perché non è che se arriva Gattuso vinci con la Juve vai in Coppa UEFA ragazzi lasciate stare questa squadra qua è stata fatta male è stata fatta male è stata fatta male adesso l'obiettivo è quello di salvarci e nient'altro io non vedo l'ora che finisca la stagione perché purtroppo da questa estate si è sbagliato quasi tutto quello che c'era da sbagliare ditemi una cosa eccetto il discorso stadio e centro sportivo che da parte mia ho sempre riconosciuto come qualcosa di positivo ditemi eccettuate quelle due cose qualcosa che è andato bene niente niente ma vi dico di più non mi piace neanche l'atteggiamento che la società ha avuto con i tifosi tutto questo ciccico co che c'è stato anche tra stampa nuova società tutto sto elogio sto elogio quando è stato commisso per primo in maniera anche molto intelligente e apprezzabile a dire guardate che noi abbiamo bisogno di imparare al posto di avere una critica che seguitasse a aiutare commisso da questo punto di vista a essere da stimolo abbiamo avuto una critica che è andata in brodo di giugiole è arrivato ogni giocatore mediocre che veniva preso sembrava che fosse arrivato Messi ve lo ricordate quest'estate ve lo ricordate e questo non è non è un problema che si è riflettuto su una squadra che è arrivata impreparata a quelle che sono le grandi sfide del calcio qui ragazzi c'è da cambiare tutto c'è da cambiare mentalità e il problema è che abbiamo una presidenza che a livello di calcio è profondamente inesperta ma è normale che lo sia qui ci serve veramente un Marotta Marotta ovviamente non arriverà mai ma ci serve uno alla Marotta che prenda in mano un Sabatini uno un ausilio come vi ho detto domenica scorsa uno che arrivi e faccia le veci anche della presidenza prendendo commisso Barone dicendogli guardate che nel calcio in Italia purtroppo funziona così perché tutto sommato anche commisso ha dimostrato che con lo stadio al centro sportivo lui le potenzialità e l'entusiasmo ce l'avrebbe anche ma se non sono indirizzate bene e sono energie buttate sono energie buttate sono energie buttate sono energie buttate serve iniziare da capo e fare veramente tabula rasa serve fare tabula rasa non è una questione qua c'è gente che dice eh ma no ma questo lo devi confermare perché io sono indeciso vi dico adesso tiro una bestemmia calcistica io sarei indeciso anche se confermare Castrovilli ma non perché sia scarso è fortissimo lo amo calcisticamente l'ho l'ho creato io scherzo ovviamente ma dico è un giocatore che mi piace da pazzi ma abbiamo talmente bisogno di cambiare aria di cambiare acqua che c'è quasi da buttare il bambino con l'acqua sporca da tanto la situazione è pesante 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 questo ovviamente non lo puoi fare a gennaio lo devi fare a giugno a gennaio cosa puoi fare ragazzi qua purtroppo lo dico a malincuore la situazione può esigere un cambio di montella mi dispiace tanto mi dispiace tanto perché anche un ragazzo che mi sta simpatico a cui voglio bene uno anche moderato e uno tranquillo e uno calmo mi sta simpatico si è un po' giampaolizzato purtroppo a me stanno anche simpatiche quelle figure lì che sono un po' derelite da tutte mi ci viene da difenderle a spada tratta un po' la sindrome dell'infermiere calcistico però ragazzi è l'unica cosa che ad oggi puoi fare perché a gennaio si puoi intervenire sul mercato ma anche lì magari vai a prendere gente tipo quelli di cui si parlava l'altro giorno i vari che si emre chama magari è gente che non ha neanche la mentalità per calarsi in una lotta salvezza che è quello che bisogna fare magari sono acquisti a vuoto anche quelli perché la cosa brutta è che ci troviamo in una situazione impreventivata impreventivata e ce ne stiamo trovando in una situazione veramente devastante in una situazione veramente devastante abbiamo l'Inter domenica arrivati a questa situazione qua se l'Inter passa col Barcellona verrà a Firenze caricata a mille serena ha pure pareggiato con la Roma l'ultima figuratevi se non passa col Barcellona se perde o pareggia col Barcellona e non passa a maggior ragione verrà a Firenze conoscendo Conte a farci a farci le zampogne e così capito quindi io io veramente domenica non lo so credo che mi ubriacherò prima di prima di Fiorentina Inter ma lasciamo perdere ma poi abbiamo la Roma mamma mia mamma mia qua c'è da mi dispiace mi dispiace mi dispiace a malincuore pur essendo la punta dell'iceberg a fronte di un insieme sottomarino di errori di travisazioni di sopravvalutazioni di autosuggestioni di leccaculismi estivi perché ci sono stati anche quelli purtroppo a pagare può essere l'allenatore ad oggi perché è l'unica cosa su cui può intervenire immediatamente e siccome la situazione è talmente grave da imporre un cambiamento io credo che a sto punto si possa tentare sta carta perché siamo quasi alla disperazione non credo che sia una carta che rimarrà intentata apprezzo anche sta cosa che resta intentata fin tanto che si capisce che pure Prade ha le sue responsabilità o comunque tutti hanno le loro responsabilità giocatori compresi io non cambierei allenatore apposta per fare un dispetto a questi quattro giocatori che giocano pure contro l'allenatore secondo me non lo cambierei apposta dicendo ah si siete contro l'allenatore va bene andiamo magari anche in B però voi fino a giugno vi fate una stagione da inferno con lui e noi stiamo dalla parte dell'allenatore ok sarebbe quasi da fare così perché siamo nella stessa situazione dello scorso anno ok non meritano questi giocatori qua di avere un allenatore che gli va bene a loro non lo meriterebbero non lo meriterebbero meriterebbero di fare fino a fine anno con un allenatore che non gli va bene ok così vediamo sarebbe quasi da andare muro contro muro io sono fatto così mi avrebbe da fare questo sarei disposto anche ad andare in serie B guardate tanto la serie B è bella però se non vuoi andare in serie B cosa che è pure diciamo comprensibile purtroppo ha mal in cuore nonostante una mole di errori che solo a pensarci mi fa nervoso che debba essere pagata solo dall'allenatore la situazione è talmente devastante che ad oggi pensiamole pensiamole purtroppo pensiamole bene ditemi cosa ne pensate un bacione un caro salute grazie a tutti grazie a tutti